Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con la recensione di un calciatore di FIFA 15 Ultimate Team Torniamo un attimo a guardare i giocatori in forma delle squadre della settimana Le ultime due settimane non ho avuto la squadra e in ogni caso non c'erano giocatori interessanti Quindi ho deciso di prendermela un attimo più comoda e provare a fondo Griezmann Griezmann nella sua seconda versione in forma era uscito due settimane fa Non mi era piaciuto tantissimo all'inizio, poi ho cambiato posizione e mi sono trovato davvero bene Iniziamo comunque come sempre dalla velocità, velocità che è veramente buona in Griezmann Ha 87 di accelerazione e 87 di sprint speed, quindi un 87 sulla carta che è pienamente meritato Mi è sembrato veloce e giusto, contate che il suo unico problema è la forza fisica che ha solo 63 Perché in generale di accelerazione riesce ad andarsene via più o meno a tutti i difensori Poi certo se lo affiancano riesce a perdere palla abbastanza facilmente Per quanto riguarda il tiro, 87 sulla carta anche qui dove brilla Griezmann Soprattutto nella finalizzazione con 90 e nella precisione di tiro e negli effetti con 87 Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete tirare prevalentemente col tiro di precisione Lasciate un po' perdere il tiro di potenza perché non è un granché Non è come il tiro di Van Persie che è un mancino come lui E proprio il fatto che sia mancino lo aiuta molto paradossalmente Perché molti avversari non sanno che lui è forte col piede sinistro Mi è capitato che mi mandassero proprio a sinistra dove io potevo finalizzare tranquillamente Il difetto rispetto a Van Persie è che ha solo 3 stelle piede debole Quindi obbligati per forza ad andare a sinistra Quindi magari dopo le prime azioni se vedete che iniziate ad andare solo a sinistra Gli avversari dovrebbero prendere contromisure se sono intelligenti E quindi bloccarvi un po' In ogni caso è un buon finalizzatore Per quanto riguarda il passaggio è un po' la sua caratteristica più debole Con 79 tra quelle per un trequartista dove io l'ho schierato E infatti poi la andrà a aumentare con un chemistry style In ogni caso è in grado di fare i passaggi di base Non è così preciso come altri top della categoria dei trequartisti Però ci si può accontentare contando che nasce prevalentemente come una punta Il dribbling molto buono anche qui Grandissima agilità con 92 Controllo palla discreto con 83 Brillano le 4 stelle skill che gli permettono di fare le skill di base Quindi se è lanciato voi potete magari quando vedete che arriva il difensore Fargli una skill e riuscire a saltarlo Difesa e fisico non sono di sicuro le sue caratteristiche principali Il fisico abbiamo visto c'ha una buona elevazione Ok c'ha una buona accelerazione una buona velocità in generale Però paga tanto quella forza fisica con solo 63 Che secondo me gli impedisce di fare la punta Quindi io l'ho schierato trequartista per stare un pochino più lontano dai difensori avversari Si mette in mezzo tra centrocampisti e attaccanti dove è devastante In chemistry style come vi dicevo ho messo il primo architetto Che va a aumentare il passaggio e il fisico Il passaggio soprattutto se lo vogliamo schierare da trequartista Così gli diamo un po' più di possibilità di servire facilmente i compagni Oppure da chemistry style base che è quello classico Che va a aumentare un po' di tutto perché Griezmann abbiamo visto bene o male come statistiche ci siamo Dove utilizzare questo giocatore? Vi direi la prima come 4-3-3-5 Quindi lui fa il falso 9 che non è proprio una punta Perché sta a metà tra i centrocampisti e gli attaccanti Quindi si mette in mezzo e riesce a servire O Pogba e Modric che sono due centrocampisti che vanno a inserirsi Col tiro da fuori o coi passaggi riescono a creare superiorità numerica O Ribery e Vela che sono due ottimi esterni Uno con 5 stelle skill L'altro che comunque può rientrare e tirare di sinistro Davvero eccezionale Questa è una squadra molto equilibrata Poi abbiamo una difesa praticamente tutta del Real Tranne per Evra con Varane, Pepe e Carval Che fidatevi è una signora difesa Oppure nella seconda è trequartista alle spalle di Benzema e Remy Anche qui abbiamo Pogba che va a inserirsi insieme a Matuidi Mette equilibrio con Toulalan Che praticamente fa il mediano O il difensore aggiunto insieme a Coscenny e Varane Perché poi ho messo Clichy e Debussy Che spingono molto come terzini Dicevamo Griezmann Perché l'ho messo trequartista? Perché non avendo il fisico Secondo me se si mette tra difensori e centrocampisti Può ricevere palle Può servire magari Nel mio caso avevo Ronaldo e Benzema Può servire gli attaccanti Può tirare da fuori magari di precisione Un sinistro a giro sul secondo palo E scavalcare il portiere O comunque creare magari superiorità con una skill Eccetera eccetera Non mi piace tantissimo come attaccante Per la forza fisica Il Warcrets comunque è buono Alto medio Però secondo me fidatevi Provatelo a mettere trequartista Trequartista centrale però Perché io l'avevo provato a mettere In un 4-5-1 Con David Silva Quindi un centrocampista Centrocampista offensivo centrale Non proprio in mezzo Perché sapete nel 4-5-1 sono un po' laterali E non mi era piaciuto Non mi era piaciuto neanche nel 4-2-2-2 E l'unico modo in cui mi è piaciuto È il 5-2-1-2 O comunque Quando è alle spalle di due punti O magari anche nel 4-3-3-4 In cui è alle spalle di una punta sola Ma comunque è in posizione centrale nel campo Conclusione Griezmann non è male Perché comunque ha delle ottime statistiche Contando che costa all'incirca 200k Che non è tantissimo Vi consiglio assolutamente di provarlo Perché ha una buona velocità Ha una ottima finalizzazione Se lo schierate come trequartista Ma anche se lo schierate come punta Ha un buon dribbling Ha un discreto passaggio Peccato per la forza fisica Le tre stelle più debole Che lo penalizzano un po' E è da comprare Soprattutto perché Perché potrebbe finire Nella lista degli upgrade di febbraio Quindi la versione 84 Che stiamo vedendo oggi Potrebbe diventare la sua versione di base E se comprate questa versione 84 Potrebbe ritrovarvi con una versione 86 Che sarebbe una roba devastante Questo poi ne parleremo a fondo In un prossimo video Ditemi un po' voi cosa ne pensate Vi ricordo che le recensioni Sono molto personali Io ad esempio Quando ho recensito Vidal Pogba non mi piaceva Non mi fidavo che voi diceste Che Pogba era molto più forte di Vidal Poi l'ho provato E mi sono ricreduto Quindi ditemi un po' voi Cosa ne pensate Noi ci vedremo presto Ciao a tutti Anzi vi ricordo Oggi alle 17 Un nuovo live di FIFA 15 Ultime Team Su Spazio Games Noi ci vedremo presto Ciao a tutti